Da oggi il Green Pass sarà ancora di più un documento indispensabile per le attività quotidiane. Il decreto del 21 settembre ne ha esteso l'obbligo per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato, fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza. L'obbligo vale per il personale dipendente, ma anche per tutti coloro che accedono alle pubbliche amministrazioni, occasionalmente. Abbiamo cercato di allungare l'orario di ingresso anche per tamponare quei casi in cui un dipendente possa avere un disguido tecnico, recarsi magari in farmacia quindi a fare il tampone e poi venire un po' più tardi. Anche per i privati l'obbligo vale per i dipendenti, ma anche per chi entra in azienda sulla base di contratti esterni. Le verifiche spettano ai datori di lavoro e per chi non è in possesso del certificato ci sarà l'assenza ingiustificata e di conseguenza il blocco dello stipendio, ma non la sospensione. Sì, veramente pensavo peggio. Invece devo dire che è andato tutto bene. I dipendenti hanno risposto correttamente, munendosi di Green Pass sia a cartaceo che sul cellulare. Anzi, l'impressione che ha avuto, la percezione è che è stata presa anche positivamente questo maggior controllo.